Non vi sono cause che giustifichino presso l'amministrazione comunale di Giarra l'inconferibilità dell'incarico dirigenziale nei confronti dell'architetto Nuccio Russo. Lo rimedisce in un parere che è stato recapitato nei giorni scorsi al comune di Giarra, al sindaco e anche allo stesso dirigente russo, l'autorità nazionale anticorruzione nella persona del presidente Raffaele Cantone e che dunque ribalta la decisione assunta nello scorso gennaio dall'amministrazione comunale di escludere Russo, già ai vertici dell'area tecnica, dalla rotazione dei dirigenti in capo alle quattro aree funzionali dell'ente comunale nel quadro dell'applicazione del principio di rotazione dei dirigenti previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della illegalità. Una decisione dettata da ragioni di opportunità era stato precisato poiché Russo risultava sottoposto ad indagini preliminari per reati contro la pubblica amministrazione in un altro ente pubblico per abuso d'ufficio. Nel parere dell'autorità nazionale anticorruzione si evidenzia preliminamente che l'architetto Russo con sentenza del Tribunale di Catania è stato anche assolto dall'accusa di peculato. La vicenda è quella relativa all'utilizzo improprio del telefonino di servizio e che nonostante il dispositivo del Tribunale di Catania egli non ha comunque più ricoperto alcun incarico dirigenziale presso il Comune di Giarre essendo la responsabilità della dirigenza dell'area tecnica affidata ad altro dirigente tecnico. Per quanto compete questa autorità si legge nel parere di Cantone tenuto conto anche della sovraggiunta sentenza di assoluzione a favore di Luccio Russo non si ritengono applicabili al caso di specie le misure previste dall'articolo 3 del decreto legislativo numero 39 del 2013. Relativamente poi alla contestazione del reato di abuso d'ufficio in altro ente comunale la valutazione relativa all'applicazione della misura di dotazione può essere effettuata unicamente dall'ente nel quale si è verificato il fatto che nel caso di specie si legge ancora nel parere non coincide con il Comune di Giarre pertanto non si rilevano relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali situazioni di inconferibilità. Adesso la palla passa al sindaco di Giarre Angelo Danna che dovrà decidere sul da farsi.